Ciao a tutti sono Angela, tutti stanno subito, guardate e oggi guardate i personaggi e le casette allora, ciao personaggi, ciao 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 e oggi saremmo qua a controllare le casette, a fare anche il negozio ok, allora, iniziamo da questa casetta a scartarla è delle, io ci leggo, è l'Elola Academy e sento che già qui dentro ci sarà un personaggio non la sento ma non mi si apre alcuni luoghi si potrebbero aprire come qua ma non voglio vedere la sua figura allora, devo far vedere io e se è attento, vediamo quello che fa il ventaglio ling 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 molto bella molto affazionante perché ma voleva far vedere questa la casa di ling ling allora, mi chiamola con lei con i ragazzi ciao ling ling, ciao e mi chiedi con loro dopo giocheremo, ok o vai dentro la tua casetta o vai dentro la tua casetta o vai dentro la mia casetta o vai dentro la mia casetta mi preparerò e si preparerà lei vai nella tua casetta e guardate la casetta ne so di Peppa ma non so cosa ci troveremo dentro le aspetto a due personaggi e una palla mi sa me l'aspetto non riesca da aprire nemmeno le cagatine non so perché tu dici queste sono le cagatine le cagatine le cagatine le cagatine di George Washington non dico George Washington si sono le cagatine di George Washington sono le cagatine non dire le parole non dire cosa è scostumata ed ecco ciao Peppa ciao e guarda c'è anche il suo amico e togli la manina che non vedo nessuno di loro una sedia Peppa e chi è quello? Danny Cane eh Danny Cane e li mettiamo dentro e ciaola e dopo inizieremo a giocare con i nostri beh se le metti così non riuscirei a mettere la sediolina eh devi metterle sdraiati Angela ecco a dopo e la cagatine ha dei mushi mushi di chi? dei mushi mushi pawn shop pawn shop è vero si chiamerebbero mushi mushi ma chi ha detto così? mushi mushi e guardate le finestre le metteremo qua ma quali sarebbero ma quali sarebbero o 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 e questa è la riga di questa musci musci in verità non si trovano le persone che sto dottendo perché sarebbe un peccato mamma non posso aprir questo senza un'altra mano non devi fare delle sorprese c'è guarda una cacca che c'è sono scema ok musci musci e questo è il cestino non c'è a mangiare noi qua pensiamo a vestire noi intanto facciamo un video ok dopo giocheremo eeeeeee io sono la paghetta ciao sono la paghetta i pagate io non c'ho niente oh scusate ti do i soldi sarò felicissimo di rivederti spassati si no no mettiti qua nel camerino quella è la vedete la tua casa nel camerino non è vero si no ando la cacca sono una cacca ma ho le siti la pasta io metto i vestiti vedi ti piace? si rigirati sennò sei una scema vieni e questa è la musci musci ballinia non so se è musci musci ballinia un attimo pausa un attimo pausa pranzo ho aprito cosa sennò ci vuole un migliaia d'anni faremo cacca cam perchè è musci uah ueda e questa è la musci musci casin perchè queste sono le casine dopo avermi dimostrato tutto ecco ecco ciao angia ciao vorrei stare io sono un così ah ecco dove facevo shhh si amica ciao 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 у beo Buon giornate.